Bella ragazzi sono Oxenic, bentornati sul canale di Grananas e sono tornato qui con un nuovo video, anch'io faccio un video, bam, grandissima cosa E niente, sono tornato qui con un nuovo video su FIFA e come potete vedere questa è la squadra che mi hanno dato sulla World Cup, Ultimate Team e quello che cazzo è Perché su Ultimate Team normale ho una squadra di merda con 249 critiche, quindi vabbè è meglio non parlarne E sto per fare la prima partita del girone, anch'io mi diletto in queste cose, ovviamente la squadra fa cagare, va benissimo così, ho tipo l'esterno destro che corre come non si sa cosa E andiamo a giocare contro il Borussia Tith, ed eccolo, mamma mia, io intanto gioco su 360 quindi si nota la differenza di grafica dalla PS4 e il Daryl alla 360.000 Infatti mi sta rompendo già il culo questo, vediamo che attacca la Germania, incredibile, però beve il pallone e ora di nuovo la palla per i diglie, i diglie Il pallone e ora di nuovo la palla per i diglie, i diglie, dove cazzo spieghiamo, mamma mia, resistenza FC, subito, 1-0, bam, ho fatto 1-2 ma cazzo è 1-0, bam Il fuorigioco va bene così, dobbiamo tenere la palla, fare possesso e attacchi bam bam in modo tale da stremare la difesa avversaria e concedere il gol del secondo vantaggio per l'Italia Uuuuh, è nel pareggio ovviamente, devo parlare, mi pare giusto, sto pirro del merda Sì vabbè ma dai io sto giocando contro una squadra e mi dimostri questo dio Sì che cazzo fa vedere play, ho fatto un gol del merda Mamma mia, è entrata assassina, cioè proprio a faie male, guarda al secondo eh Guarda al secondo, l'anima degli mortacci mia Eccolo ancora, intercetta il pallone, la palla per lui 1-2 di precisione proprio eh, faceva meglio mi nonna quel passaggio Puttana, da ma che cazzo è, ma è baggato, ma porca puttana oh Ma vaffanculo, ma che cazzo dei surti Vai riparte, l'Italia vuole questa vittoria, perlomeno il pareggio Aquino, Aquino, Aquino che è veramente bruttissimo nel nome Lo vedi in mezzo, al centro, per bacca, ma porca puttana, ma porca puttana Ma come cazzo fai a cagare in order jail Ancora, ideie, ideie, ideie Carica al sinistro, bacca arrivace, mortacci tua Tira, oh porco, perché? Perchè? Perchè? Grande papapata papatopoulos Sviluppa lo gioco, cerca il gol Oh oh, ma che cazzo di gol è? Ma che, oh porca puttana oh, ma guarda che culo Ma, non ci posso credere, ma Dai, io, ma che gol è? Ma vaffanculo, è passato in mezzo a otto coglioni Bacca, se ne vuole andare, vuole fare tutto da solo La passa Il cross in mezzo Bacca Una mara consolazione al 69esimo minuto Cristian Bacca Il gol del 4 a 2 Lo vede Boateng? Di nuovo la palla per Bacca Bacca, Bacca, il tiro Oh oh oh, è un rigore che è grosso quanto una casa, mortacci tua Il cross lungo per i Dei I Dei I Dei la stoppa Oh non ha mai stoppato prima Però il passaggio Ovviamente Bacca, Bacca, Bacca intercetta Oh non riesce a segnare Cioè da davanti alla porta non riesce a segnare No, no, che cazzo fare Ah beh Di croia Oh Oh Ma che cos'è? Ma chi è che cazzo ha detto che Bacca è forte C'è una pippa rara Dai stiamo al 79esimo Io la fa ma fa due gol Vabbè questa partita è andata così Oh partita fase gironi Un pacchetto Apriamo questo pacchetto Ovviamente non servirà veramente a nulla Perché non servirà a nulla Tra l'altro partita dominata da me Però è andata male È andata male E apriamo il pacchetto Poi ci rivedremo nel prossimo episodio Dove tenteremo di vencerla la seconda partita del Dove cazzo stanno i pacchetti? Ah ok La seconda partita del girono ovviamente Vedi i pacchetti Bam I miei pacchetti Grazie Oh Oh C'era almeno un giocatore nei mondiali qui fa Grazie a cazzo Oh Sta spacchettata che non servirà a nulla Slimani Incredibile Che pippa rara Vabbè Ragazzi con questa partita Spero vi sia piaciuta Vi auguro una buona giornata È stato un piacere intrattenervi per questi dieci minuti Mi mancava fare così Dieci minuti che non saranno dieci minuti probabilmente Da Xenic è tutto Da Grandans è tutto Ci vediamo al prossimo episodio di questo rotto figura del merda Bella Ciao 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 Grazie per la visione